Arriva il weekend il lungo ponte dell'Immacolata con la città presa d'assalto dai turisti come non si vedeva ormai da due anni. In concomitanza con la città del Natale si è giunta la Fiera Antiquaria. Il centro ormai è saturo e non c'è angolo di strada o piazza piena di gente, banchi e attrazioni. I banchi della fiera sono stati sfrattati da Piazza Grande, assaltata a Sant'Agostino tra mercatino di quartiere, artigiani, fiera e no paura dei. La fiera antiquaria orfana di Piazza Grande si allargerà alla piazzetta sotto la curia Vescovile. I banchi oggi sfidano il business dei primati. Oltre 200 dell'Antiquaria, oltre 30 al mercatino tirolese, 25 al Prato, altrettanti nelle piazze Risorgimento e San Jacopo, 20 in Guido Monaco, poi quelli già citati di Sant'Agostino, quelli del chiostro della biblioteca con i gioielli preziosi, quelli gastronomici a chilometro zero sotto i portici, quelli del mercato di zona Giotto e quelli dei mercati di solidarietà del Calcite e Avo. Tra i curiosi dei numerosi banchi si è intrufolata anche una truppa del Tg2 che ha passato al setaccio il mercato tirolese e la casa di Babbo Natale. Al momento si parla già di 200.000 presenze in due weekend e altrettanti in arrivo. Da lunedì l'entrata in vigore del Super Green Pass porterà una flessione degli arrivi, viste le numerose disdette degli ultimi giorni. Ma al momento non è possibile quantificarne l'impatto. Tra le varie iniziative da segnalare è la presenza domani al Prato del camper vaccinale della Misericordia. Sì, saremo questa domenica mattina e la domenica prossima al Prato a fare vaccinazioni. Faremo solamente le prime e le terze vaccinazioni con Moderna. Per cui questa qui è la nostra indicazione con l'azienda. Grazie.